Ciao a tutti del tubo, sono Gianluca, oggi siamo qui con un po' di Martina Ciao Oggi siamo qui in questo nuovo video della The Island of Yunara Ragazzi, molti di voi sono stati contenti che ho iniziato questa serie Altri hanno detto, eh ma ciao, questo l'abbiamo visto tante volte Sì, lo so, però comunque rimane una bella serie E comunque mi diverto a portarla Volevo rispondere alle persone che dicevano Eh, ma Martina non sa giocare Per l'ennesima volta, signori, no Non sa giocare Martina, è vero Quindi questa serie la faccio con lei Proprio perché è una serie divertente Dove dobbiamo failare per divertirci Insomma, non è per giocare questa serie Più che altro per ridere, per divertirci Infatti quando ci facciamo gli scherzi Noi ridiamo, quindi è inutile che nei commenti scrivete Perché tanto lo continueremo a fare Lo faremo apposta proprio per far divertire Infatti tanta tanta gente nei commenti Rideva delle canate Che facevamo io e Martina Perché è questo il senso della serie Giocare con una persona che è completamente incapace di giocare Perché semplicemente non ci gioca mai Ed è giusto così Quindi ragazzi lasciate un mi piace adesso Mentre vi sto guardando Proprio mentre vi guardo Vi sto guardando Vi sto fissando nelle palle degli occhi E adesso vi lascio al video Buona visione Sto immaginando la tua sigla Allora signori Dallo scorso episodio non abbiamo fatto praticamente niente Se non questa minuscola farm con le pecore che stavano laggiù Io non sapevo nemmeno ci fosse quella cosa Vabbè perché tu mentre io la facevo Stavi cazzeggiando bellamente come al tuo solito Ma non c'era di nuovo Cioè non Ah ma quindi c'ero Ah ma quando è cresciuto quest'albero? Mi sono persa qualcosa No ma non metterli a cazzus E non ce l'ho mai È caduta È caduta va bene Allora signori adesso Chi è caduta? Tu sei caduta nell'acqua Mentre cercavi di saltarla No non ero caduta Sì Non è la prima volta che mi capita Buono sapersi Comunque Siamo Spostati Ma non mi fare paura a questa maniera Che mi sa che c'è il pvp Che se ci colpiamo un macello Il pvp Ma io non ho nulla per distruggere Tu quella Oh mia dove sei folle Vatti a fare le cose Scusami Oh marty guarda Possiamo fare il nostro primo blocco Oddio Sembra che tu stia parlando di un bambino Guarda guarda marty marty Guarda Aspetta Ho il blocco d'oro Guarda cosa ho in mano Vieni andiamo a metterlo No 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 Andiamo a metterlo Vieni 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 Aspetta che cado nell'acqua Allora Gold block Ecco qua Sì ti voglio vedere mentre Ma fa Prima fai il nostro bambino Poi non mi fai manco vedere come è Sì ma non stare così col microfono Che non si capisce E prima Prima dici di stare attaccata Poi mi dici no Decide E' esageratamente attaccoso Allora Quanto sei carina da qui Ciao Devo andare a prendere altri blocchi Aspettami là Ok ci provo Non ti muovere No no Non morire Però fai tanti blocchi E portami anche qualcosa da mangiare Che le mie persone in giro C'è un po' d'anguria Non è che Non mi fa impazzire l'anguria E' solo quello C'è al momento Non abbiamo nulla da mangiare Ok ho questi blocchi Che poi Mi è appena arrivato Il tuo ok ok Senza senso Va bene Perché te l'ho appena inviato Perché mi hai inviato ok ok Ma sei scema Basta Smettila Si sente nel video E' fastidioso Si Mi esce il pop up Basta Maledetta Si sente nel video Basta Oh mi ricordo Quest'isola la odio No dai Torniamo indietro per favore No Dobbiamo farla Uffa Dobbiamo farla tutta Tutta dobbiamo farla Però si sta facendo notte Quindi direi che andiamo un attimo A dormire Altrimenti No no andiamo Voglio combattere i mostri cattivi Di notte vuoi combatterli Sei buona qua Mi occupo io Di spawner qua sotto Sono i ragni Posso andare ad ucciderli Dove sta? Quanta roba Marti Marti No allora Marti lascia tutto nella cesta Per il momento No Ascolta Lascia tutto nella cesta Quando ripuliamo Marti Eh Lascia tutto nella cesta E dai Marti Fui Quando abbiamo ripulito l'isola Li porti tu a casa Te lo prometto Vieni qua ragno Vado che scema Che sono questi cubetti Eccolo 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 Ma tu cosa stai facendo esattamente? E non abbiamo stick C'erano degli stick Nella cesta Aia marti Ma scusa Ma prenditela da terra Le torce Marti Oh scusa Aia marti Mi hai ammazzato Anche tu a me Ho mezzo cuore Oh Oh Io ne ho uno solo Aia o sei morta no dove sei morta non stavo facendo niente io ero ferma e grazie ci sono i ragni scema volevo colpirli ragno ma vicino a me non ce n'era nemmeno uno dove sta dove sei morta dove sei morta tu prima allora ora respawno ho trovato una cosa che un one shot i mob vieni vieni ti do la mia spada forte dove sei sono venuta da te sono qua vieni 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 prendi questa e tu avevi anche questo e tu tieni cosa quello che ti ho dato oh grazie allora oh 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 li one shot che forza su dammi del cibo e non ce l'ho il cibo come te lo do aia ecco 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 lo sto uccidendo ma li stai mandando addosso ma li stai uccidendo marty allora mi rifugio un attimo sopra ho bisogno di trovare del cibo pure che mi mangio la carne di zombie che non perché non ci dà quando muoio non ci dà le loro armi attento attento sta salendo aiutami marty che devo fare col creeper che li faccio tutti esplodere ma li fanno esplodere dove il creeper dietro di te dietro di te sono qua e corri che sta arrivando il ragno uccidilo sono davanti a te uccidi il ragno e ho capito ma se tu ci metti tre quarti d'ora attenta un altro corri e non riesco a dartela perché non trovo il tasto eccola ci sono gli spawner qui e li dobbiamo rompere aspetta che chi sei tu vai via da me no sto per morire sto per voi sono morta sono morta no 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 marty no vai no marty no sono morta anch'io no corri qua corri casino vieni qua dove dove io sono morta e sto andando vieni qua tu non ci sei più dove devo venire qua no perchè ancora non le spazzo è un bastardo stronzo di merda cazzo 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 muori 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 muore muori muori muovi muori 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 attento E si dietro ho capito Se ci sei tu Da dove è caduto sto scemo Mi sa dall'alto Oh qua sopra c'è una cesta C'è del pane qua dentro Ma dove sei? Sopra la tua testa E tu non hai distrutto E come faccio a distruggere Il piccone io non ce l'ho Ce l'hai tu il mio piccone Allora aspetta E considera che io non ho manco un minimo di armatura Ti uccideranno Oh oh quanti ranni ci sono là sopra? Assai Qui c'è un'altra spada Martì guarda sopra Ho capito ho visto prima Tu ci devi spawner Oh e no mi cadono in testa Ma c'è il mio soddisfatto Grazie grazie di nuovo Ma basta uccidermi Ma perché? Ti distruggi così Ma come faccio a distruggerli Se mi colpisci Tu ti distruggi i mostri Ma sei scema Eh ho capito Distruggi il spawner Ma se io sono lì e tu mi colpisci Io colpisci i mostri Non è vero Non è vero che colpisci i mostri Perché mi stavano arrivando addosso a otto ragni Questo è tuo Ok Questo è tuo Questo è tuo Allora abbiamo conquistato Questo è tuo Piccone 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 Questo è tuo Piccone Questo è tuo Questo è tuo Mi serve il piccone Te l'ho dato Ok aspetta Dobbiamo trovare il modo di togliere tutta questa sporcizia da qua sopra Ok allora Piccone Trovato Attenta dietro Attenta dietro Attenta dietro Basta Vattene ragno Allora qua sopra c'è altra roba comunque Ma se fosse colpa mia Te lo meriti Sei cattiva con me Io Che ho fatto Io ci provo a fare qualcosa Tu ti lamenti pure E comunque questo ponte dovrebbe essere un po' più basso Perché io perdo ogni volta sei cuori Hai preso la mia roba per caso Non lo so Non riesco a salire C'è troppa gente Martì abbiamo bisogno di un arco Eh arco io sto senza niente Eh allora Allora vieni qua Vieni qua E vieni qua sono qui Se non vieni qua come ti do le cose Non ti vedevo maledetta Aia Martì lo sto prendo E non ho la tua roba Come faccio Tieni questa E allora salgo a riprendermelo Eh buona fortuna Parmi Eh no sono io Charlie Io provo a farmi un arco Provo a usare quello Per forza il piccone mi serve per distruggere sto coso Sì E allora vieni qua per favore Aspetta O dammi un piccone Ho trovato del cibo Aspetta Sto arrivando Sto arrivando Vai o distruggi qualcosa O premere un piccone Ok No aspetta aspetta La mia spada non c'è più Aspetta aspetta Ma da dove escono sti cosi Che li abbiamo distrutti Qua sotto Martì ho bisogno della tua spada Non ce l'ho la spada Ah si l'ho presa Ma sei stupida È mia la spada Ma me la sono ripresa Con tanto No me la devi dare Devi solo togliere qui Per cosa Dove Perché hai lascia incantata Dove l'hai trovata Boh qui Ah Vabbè Distruggi tutto Distruggere questo È il mio unico obiettivo Vai distruggi ancora Vieni 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 Oh scusa Ma ti metti davanti Non mi colpire di nuovo Ho capito Ma devi che sto colpendo io il ragno Perché ti metti davanti Perché devo andare a distruggere lo spawner Forse E ho capito, ma non colpire il ragno che sto già colpendo io C'è uno qua in mezzo Non c'è più qua in mezzo, non c'è più qua in mezzo È qui, è qui, è qui Tu uccidi qualcosa E spostati però, ma mi dicono sei tu allora Non, stavo Cosa c'è? Un cappellino di diamante Ferma, lascialo lì Ah, comunque io ho uno smeraldo Buono, ma lascialo da qualche parte Non tenerlo Lo rimetto in questa cesta, ma non l'avevo preso io È anche una pozione Martì, siamo per andare in un momento molto difficile Aspetta, fammi prendere la spalla Ho bisogno di cibo, maledizione Anch'io Oh, e sali però Muori Muori Ok, chi c'è, chi c'è? Eh? Non c'è nessun altro? Qui, in questo momento no, però lì c'è uno spawner Ok, hai tolto Hai tolto lo spawner Fammi, sì, fammi Fermo un attimo con le mani Fermo un attimo Vado a prendere Oh, qua ci sono solo tanti blocchi Che bello, non me ne piegava niente Ok, fammi togliere questa cosa qua Magari c'è qualcosa Che sento il rumore di scheletro Oh, quanto sono stupido Vabbè, come morire subito? Libro di Martina Che hai fatto? Il mio personagino ha evitato le scale Si è buttato giù suicidandosi Martino, cosa ho trovato? Voglio vedere pure io Spostati un po' Aspetta, che io qua muoio Oh, è esposto Marti, non colpire il pigman Per qualsiasi cosa non colpirlo Vabbè Perché non si colpisce? Perché altrimenti tutti i pigman ci attaccano Ma proprio tutti Ma lui non ci attacca comunque No, lui no Finché non lo colpisci, no Ok Allora Ti chiamerò Peppa Peppa Oddio, non ci avevo pensato a Peppa Pig No, ma lui è un maschio Non è vero che non ci hai pensato Ti giuro, non stavo pensando a lei Peppo, lo chiamo Peppo Hashtag Peppo ti amiamo Sotto nei commenti No, Peppo sta negando Peppo Peppo, salvati No, dobbiamo salvarlo, per favore No, è morto Non mica ci attaccano gli altri Peppo No, no, è gli altri Va bene ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Siamo riusciti a conquistare un intero dungeon Morendo anche poche volte rispetto al previsto Credevo che avremmo filato molto molto di più Quindi mi raccomando ragazzi Lasciate tanti like, tanti commenti Noi ci vediamo in questo video Ciao a tutti ragazzi Stiamo salutando però Non ci sono riuscita quindi ciao Ok Stiamo morando soffocata